Si è svolta questa mattina anche a Gela la giornata nazionale della sicurezza in mare. L'evento è stato ospitato presso il Vela Club e organizzato dalla sezione locale della Lega Navale Italiana in collaborazione con la Capitaneria di Porto, Guardia Costiera di Gela. Oggi si celebra la giornata della sicurezza in mare che la Lega Navale Italiana organizza ogni anno con la collaborazione della Capitaneria di Porto di Gela. Questa giornata è di preparazione propedeutica alla fruizione del male da parte della cittadinanza. Per cui la Capitaneria di Porto dà tutta una serie di informazioni che servono ai gelesi per godere il mare in totale sicurezza. La giornata di oggi è finalizzata alla sicurezza in mare. Noi come Capitaneria di Porto insieme alla Lega Navale da qualche anno svolgiamo questa giornata in totale sintonia perché l'obiettivo nostro è informare la popolazione partendo anche dai ragazzi e quindi dai ragazzi più giovani, dai bambini anche delle scuole elementari come si deve approcciare il sistema mare che poi può essere la spiaggia, può essere la barca. Quindi questa giornata è finalizzata appunto a chiudere poi il ciclo di conferenze perché molti bambini sono già passati dalla Capitaneria quindi ci conoscono, conoscono qual è il nostro compito però questa giornata ci dà la possibilità di dare qualche nozione in più anche di natura pratica su come svolgere al meglio e affrontare al meglio la stagione bambiniare. Il Club Vela è felice di ospitare questa giornata di sicurezza in mare organizzata dalla Lega Navale con la partecipazione della Guardia Costiera e con la partecipazione anche dell'Istituto Nautico di Gela ci fa molto piacere partecipare a questi eventi che ci danno la possibilità di incontrare giovani che vivono con passione la vita e vivono le passioni della vita.